Aprite a pagina 38, capitolo 4, paragrafo 3. Oggi studieremo gli aggiuntivi. Vale anche per te, Ishan Awasi. Pagina 38, capitolo 4, paragrafo 3. Posso avere la tua attenzione, Ishan? Ishan! Ho detto pagina 38, capitolo 4, paragrafo 3. Sì, leggi la frase e dimmi subito quali sono gli aggiuntivi. Pagina 38, Ishan, per favore, aiutalo. Allora, guardate tutti il libro. Leggi la prima frase e dimmi quali sono gli aggiuntivi. Su, avanti, sottolineiamo tutti insieme gli aggiuntivi. Coraggio, leggi la frase. Vuoi leggere la frase, Ishan? Le lettere stanno ballando. Silenzio! Dillo in inglese. The letters are... Davvero stanno ballando? Va bene. Allora, leggi le lettere che ballano. Ti va di scherzare? Ua, 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 atto, uo, uo. Leggi la frase correttamente ad alta voce. Ua, ua, atto, uo. Ho detto correttamente ad alta voce. 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 Ho detto basta, basta. Questo è davvero troppo. Fuori. Fuori dalla mia classe. Fuori. Volete uscire anche voi? Chi è che sta ridendo? Chi vuole andare con lui? Non voglio sentire sghignazzare in aula. Guardate il libro. Che faccia di bronzo. Avanti, aprite il libro. Chi sa dirmi cosa sono gli aggettivi. Non voglio sentire volare una mosca. Avanti. Chi vuole leggere la frase è a pagina 38. Io voglio leggere la frase. Vi ricordo che questa è l'ora d'inglese e che dobbiamo sforzarci nella casa. Grazie a tutti